ho già due mani, ho due mani ragazzi ma dimmi tu, se vuoi ti faccio vedere allora, così i video di tenere le mani qui ti do io il piano magari per farlo della figura ti metto il modello 5, 4, 3, 2, 1, via vai, sta parcheggiando, sta parcheggiando nel silos conferma ciao sei vicino al vetro o qualcosina a me adesso ci vediamo riflessi presto su Italia 1 ciao e entra la bici dentro non ci crederete ma questo è il silos della stazione metropolitana 3 e che c'è questo vice sindaco che si presta a fare anche la cameraman spero che sia più c'è un po' la zona ciao bici abbiamo una diretta termina meglio con un po' la zona no 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 sembri poco c'è qualche domanda specifica ho qualche domanda specifica la domanda è no 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 e sia una domanda di una testa che mi sto a rire a qualcosa di buco di zara dopo tutto poi 먼저 lo firmeremo e ci dire ne avete si è assistito di questo periodo non altro ma l'ho mai sto diventa una vina, dove la vina non è avuta a un locale gli dice ah beh c'è il silo se devi andare all'ospedale così quasi poi prendo la navetta e perchè già non raggiungi secondo me la tessera diventa vincolante poi alla fine per entrare oppure ci sarà un meccanismo anche, c'è un meccanismo anche extra tessera per poter, no tessera vincolante perché, partiamo sempre da questo, perché è diventato un servizio di bici in città, quindi adesso non so, adesso non so se poi i bici in città, perché non penso che riescano attraverso l'app a sviluppare e ciò non c'è la idea, per l'aipto, per l'aipto